Come è la rottura? Come è la rottura? Che abita l'umano. Intanto diciamo che la questione delle rotture è una questione propria dell'umano. Il fatto che ne parliamo da psicoanalisti è perché evidentemente ci troviamo al cospetto anche qui di rotture che avvengono fra soggetti analizzati. Vale a dire fra soggetti supposti resi consapevoli che c'è un'altra scena, che la partita non si gioca solo sulle apparenze. E' proprio questo che rende queste rotture particolari. Nel senso che come accade anche in questa rottura fondativa, epica, diciamo, che vede contrapposti due geni in qualche modo, anche qui la vera causa della rottura sembra abitare un posto che sta sull'altra scena appunto. Freud e Jung. Da una parte c'è Freud, il padre fondatore della psicoanalisi, si lega in un primo momento a Jung e poi ne prende con decisione le distanze. La questione della ripetizione, osserva Freud nell'epistolario di Freud e Jung, lui dice, parole sue, è un'inclinazione generale degli uomini a fare sempre nuove copie dei cliché che portano in se stessi. Ora, questa questione della ripetizione dei cliché si osserva a due livelli in questa vicenda. Uno, quello politico, più generale, di cui stiamo parlando e parleremo ancora domattina. Del livello delle politiche della psicoanalisi. L'altro livello è quello soggettivo. E qui incontriamo una ripetizione che sta sul lato di Freud e una sta sul lato di Jung. Freud ha un'inclinazione alla bonomia, alla generosità, a infatuarsi all'idealizzazione dell'altro in qualche modo, che coinvolge, che galvanizza con la sua valorizzazione, fino a che l'altro, galvanizzato, valorizzato proprio dalla sua generosità, gli va contro. È esattamente il contrario del cliché di Jung, che invece ha una certa inclinazione a legarsi ad uomini più anziani, più potenti di lui, a legarsi in modo radicale, a sottomettersi completamente, fino a che non tollerando più questa sottomissione si ribella nel modo più radicale. Questi legami consentono tra l'altro a Jung di accedere a posizioni di prestigio. Si lega a Bloiler, prima che a Freud, diventando primario, cioè Bloiler è il primario del Burgholzli, scusate le pronunce, ma qui siamo nel pieno tedesco, diciamo. E quindi, come dire, riesce ad accedere a posizioni di prestigio. Bloiler è un eminente psichiatra, è quello che ha inventato la diagnosi di schizofrenia, dunque ha dato un nome a una delle psicosi più importanti. E Jung, proprio in questo ambito, cresce professionalmente. Non solo, è proprio su impulso di Bloiler che Jung incontra Freud. Nel senso che a un certo punto Bloiler, incuriosito dalle teorie freudiane sul sogno, chiede a Jung di relazionare su questo, cosa che Jung fa. Freud, dobbiamo subito dire, al culmine dell'infatuazione per Jung, lo nomina suo erede, suo successore alla guida del movimento analitico. Di fatto Jung, nel suo percorso fatto di sottomissione e ribellione, a un certo punto si ribella, e non coglie però un punto cardinale sul quale tornerò poi, della sua questione che ha a che fare con l'irrisolta questione del padre, che per lui è incandescente, entreremo meglio nel merito. Diciamo che gli scambi fra i due iniziano nel 1906, gli scambi epistolari. Si incontra prima di tutto un biglietto negli epistolari che il cinquantenne Freud indirizza al trentenne Jung per ringraziarlo dei suoi studi sull'associazione verbale. Dopo un po' è Freud a mandare un suo testo psicoanalitico ed è Jung che lo ringrazia. Già a partire da questo primo testo di Jung, Jung si propone come alleato a Freud, con testa degli avversari della psicoanalisi, dice che lui ha convertito Bloiler, quindi ribalta qualcosa dell'ordine della verità in qualcos'altro, comunque sia, Freud ben accoglie questo nuovo giovane alleato, visto che è in una fase in cui sta costruendo il movimento psicoanalitico. Con la seconda lettera di Jung si assiste ad un deciso cambio di passo, nel senso che Jung parla a Freud e gli dice che vuole abreagire qualcosa che gli è accaduto di recente e che ha a che fare con una paziente. Ora, questo abreagire è un termine sospetto, corseno di poi diciamo, è un termine sospetto poiché ha a che fare con la tesi freudiana, che vede, con la prima tesi freudiana, che vede l'abreazione come il meccanismo di liberazione della carica affettiva imprigionata nel trauma e nel sintomo. Comunque sia, Jung scrive che vuole abreagire qualcosa su, scusate, Jung scrive a Freud che vuole abreagire questo qualcosa. E parla di questa paziente, che è una russa di origine tedesca, dice che c'è una questione che questa ragazza porta, che quando aveva fra i quattro e gli otto anni faceva un gioco particolare con le feci, poggiava l'ano sul calcagno e faceva un gioco di stimolazione e ritenzione che la portava a non defecare anche per quindici giorni. Omette alcune cose, Jung. Prima di tutto non cita il nome. Il nome è Sabina Spielrein. Spielrein in lingua tedesca è il nome composto da due parole. Spiel, gioco, rein, pulito. Dunque gioco, pulito. Il che rende piuttosto singolare il fatto che Jung questo nome non lo dica. Freud, visto che gioco pulito, col gioco delle feci, come dire, c'è un collegamento evocativo. Evita di dire anche qualcos'altro. E questo capiamo bene perché eviti di dirlo. Nel senso che Jung ha intrecciato con questa paziente un legame affettivo, un legame d'amore. Segue una fase, tra l'altro qui si subito prende una certa piega al rapporto fra i due. Nel senso che Freud si pone su un piano clinico e cerca di rispondere sul piano della clinica. All'altro si trova subito nella posizione di dover nascondere o mettere cose piuttosto importanti. Inizia una fase di corrispondenza intensa fatta di discorsi che riguardano il livello politico e fatta di richieste di consigli di Jung che si presenta come un allievo attento, entusiasta perfino zellante delle posizioni di Freud. Il che non impedisce a Jung, per rimettere in gioco una certa distanza teorica, non impedisce a Jung di presentare un intervento al primo convegno di psicologia freudiana tenutosi nel 1908 e in questo intervento proporrà una tesi secondo cui la demenzia precox, la psicosi scaturisce da una psicotossina nociva al cervello dunque una posizione ben lontana diciamo da quella freudiana. Sin dall'inizio si rileva un certo imbarazzo di Jung nel rivolgersi a Freud e nel tenere il ritmo della corrispondenza. Freud rimprovera questo a Jung chiede un contatto più assiduo a un certo punto Jung risponde vi leggo le sue parole dice Jung a Freud lei ha coniato la splendida espressione complesso di autoconservazione lei sa che questo complesso mi ha già giocato più di un tiro è vero devo confessarglielo con riluttanza io l'ammiro senza riserve come uomo, come studioso non la invidio coscientemente il complesso di autoconservazione non proviene dunque da qui ma dal fatto che la mia venerazione per lei ha un carattere religioso passionale che non provoca in me molestie d'altro genere no ma che mi rende disgustoso e ridicolo per via del suo sottofondo inconfondibilmente erotico Jung aggiunge subito un dettaglio piuttosto oscuro della sua vita privata e dice questa sensazione orribile deriva dal fatto che da ragazzo ho subito un attentato omosessuale da parte di un uomo prima venerato poi dice altre cose e in conclusione dice temo quindi la sua fiducia temo di destare la stessa reazione in lei quando le parlo delle mie cose intime questa rivelazione provoca un cambio di passo nelle gambe affettive fra i due tant'è che da lì a poco Freud che intestava la lettera con caro amico e collega gli scrive e dice beh caro amico posso lasciar cadere il collega dopo tanto tempo e dunque si produce questo avvicinamento nel legame Freud continua a tenere un atteggiamento molto vicino mentre Jung si pone proprio nella posizione di chi teme di essere scoperto e comunque sia risponde Jung a questa offerta di Freud parole di Jung di nuovo l'immeritato dono della sua amicizia rappresenta per me in un certo qual modo un vertice della mia esistenza e mi spinge a pregarla di permettermi di godere della sua amicizia non come di un'amicizia fra uguali ma come dell'amicizia fra padre e figlio ora ben presto Freud che a causa di un'idea superstiziosa riteneva che dovesse morire presto aveva 50 anni all'epoca come dicevo prima riconosce in Jung la possibilità di farne il suo successore e glielo propone e qui sono le parole di Freud a Jung e dice il proposito egoistico che perseguo e naturalmente confesso con tutta la sincerità è quello di insediare lei come mio successore perché lei applica alle psicosi ciò che io ho cominciato con le nevrosi per la sua personalità forte e indipendente per il fatto di essere uomo germanico che si attira più facilmente le simpatie dei contemporanei a parte il fatto che inoltre le voglio bene ci sono due casi clinici che mettono a dura prova Jung in questa fase il primo è il caso di Otto Gross Otto Gross è un allievo psicoanalista figlio di un criminologo il che non gli impedisce di diventare pur un tossicomane da cocaina un mangiatore di opio Jung cerca di portare avanti questa analisi in tutti i modi nel senso che ci sono dei racconti dove i due stanno giorno e notte continuamente in questa posizione analitica diciamo l'analisi di Gross dura due settimane Jung alla fine dice che ne è uscito con un'analisi completa lo riferisce a Freud Freud risponde un po' sornione dice mi meraviglio della gioventù che liquida compiti del genere in due settimane da me sarebbe durato più a lungo l'ottimismo di Jung comunque ben presto si rivela molto mal riposto per la cronaca Gross morirà dieci anni dopo proprio a causa della droga e Jung dice per un momento si riesce a chiudere la falla in riferimento a Gross subito dopo la falla torna a aprirsi non c'è evoluzione non c'è avvenire psicologico per lui egli a dispetto del tempo che gli si dedica e di ogni analisi continua a far fronte agli eventi d'oggi con la reazione del bambino di sei anni e aggiunge Jung per me questa vicenda è una delle più penose della mia vita perché rivivevo in Gross fin troppi aspetti della mia propria natura sicché avevo spesso l'impressione di vedere in lui il mio gemello si apre qui un tema relativo al transfert dal lato clinico e Freud pone una questione a Jung nel senso che gli dice che non va bene come dire dare molto aspettandosi qualcosa in cambio e che quando ci si pone in questo modo sul piano della clinica si finisce regolarmente per sbagliare i conti grazie a tutti